una tasca di batteria c'è chi ha anche il giugno? ho adesso io ho presa quella linea di scena ma ho vedo quelli di usati quella tredicesima da come dire, non do prenderli prima se devo iniziare ad andare faccio una faccio un anticipo un anticipo sul TFR mi servono delle cose una bella battaglia ho detto Massimo se mi lasci tu adesso non mi puoi lasciare anche solo per questa ragione perchè io sto facendo un investimento che diversamente se lo stessi con aver fatto non ce lo voglio usare io non lo farei se ti lasciate li ritiro io hai provato lo stesso mi devi dare quello che ho pagato però tiriamo indietro quanto l'hai usato dai facciamo un calcolo allora faccio così ti fai pagare a lui no non glieli do perchè se glielo dà la nuova amorosa poi sono gelosa anche dopo ti fai pagare a lui e dopo te se li dai a qualcun altro che non è una tutto va bene e li rimborsi un fatto al mese ci manca solo che dopo un mese che mi ha lasciato mi dici ascoltami dai che gli do la mia nuova te li do ma sulla testa grazie grazie grazie